Una vetrina nel cuore di Arezzo per far risplendere uno dei settori particolarmente legato al nome della città, quello dei preziosi. Si chiama Gioiello in vetrina ed è la prima mostra mercato aperta al pubblico mai realizzata nel centro storico di Arezzo. Si svolgerà all'interno del chiostro della biblioteca sabato 3 e domenica 4 settembre 2016. È un'occasione per rispondere a questa domanda che viene da tutti i turisti e tutto il popolo straniero che viene a visitarci e per la fiera antiquaria e anche durante il mese. Dov'è la strada dell'oro? Arezzo è conosciuta come città dell'oro e attendendo questa strada dell'oro che è addirittura dagli anni 80 che attendiamo, la nostra Feder Preziosi ha pensato di fare questa mostra mercato. Siamo la città dell'oro e purtroppo chi veniva qua se ne accorgeva poco perché è sempre un po' mancato, quindi stiamo lavorando insieme alla Camera di Commercio finalmente ad allestire il famoso modello dell'oro al Palazzo di Fraternita, ma questo deve essere il primo tassello per cominciare a mettere in vetrina, a mettere fuori tutte le nostre eccellenze. Il nostro punto di vista è che il concetto di cultura non comprenda solo il servizio di prestito dei libri, ma comprenda anche la valorizzazione del territorio. In tal senso abbiamo deciso di aprirci ai commercianti proprio perché fanno un'opera cittadina molto importante. Protagonisti della manifestazione, una dozzina di dettaglianti e orafi che potranno mettere in mostra nelle tecche allestite per l'occasione i loro preziosi più particolari nel tentativo così di ridare slancio ad un mercato che sta vivendo un momento di stallo. A livello nazionale ha riportato un meno 30 rispetto agli anni precedenti, quindi noi cerchiamo almeno con queste manifestazioni, con questi eventi di poter riportare la voglia di ricompare un pochino l'oro, anche se sarà un po' difficile. Grazie